Benvenuti nel canale spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Tu si che vales sta per fare ufficialmente ritorno su canale 5, scopriamo quando inizia, la data ufficiale della prima puntata del 2022 e tutte le novità trapelate in merito. Tu si che vales sta per fare ufficialmente ritorno su canale 5, scopriamo quando inizia, la data ufficiale della prima puntata del 2022 e tutte le novità trapelate in merito. Leggi anche, Totti ha tradito Ilari Blasi con Flavia Vento? Forse Corona aveva ragione. Tu si che vales 2022 quando inizia? La prima puntata della nuova edizione di tu si che vales andrà in onda, ufficialmente, sabato 17 settembre 2022. Tu si che vales 2022 cast, chi sono i giudici e i conduttori? Tutti i giudici visti negli ultimi anni a tu si che vales dovrebbero tornare anche nel 2022. Stiamo parlando di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Theo Mammucari e Sabrina Ferilli. Confermati anche i conduttori Belen Rodriguez, Martin Castro Giovanni e Alessio Sacara. Albe di Amici conduttore di Tu si che vales 2022? Le ultime indiscrezioni lanciate dall'esperto di gossip Amedeo Benza rivelano una new entry nel cast di Tu si che vales, stiamo parlando del cantante di Amici 21 Albe. Il giovane ex allievo del talent sarebbe stato scelto come nuovo volto per la co-conduzione del programma di Canale 5. Giulia Stabile non ci sarà più? Albe, dunque, potrebbe prendere il posto di Giulia Stabile. D'altronde non è la prima volta che si vocifera della possibile esclusione della ballerina dal programma. Il primo ad averlo anticipato era stato Davide Maggio, scatenando una forte reazione sui social per la possibile assenza della ex vincitrice di Amici. Ma perché Giulia potrebbe essere esclusa? A quanto pare nessun rancore con il team del programma, semplicemente le registrazioni non sarebbero compatibili con gli impegni professionali della ragazza. E voi siete pronti per la nuova edizione di Tu si che vales? Restate aggiornati con per scoprire in anteprima tutte le news sul programma e sui protagonisti che ne faranno parte. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!